I carabinieri della compagnia di Lanusei, della stazione di Arzana, col supporto dello squadrone riportato cacciatori di Sardegna, nel corso di un'operazione finalizzata alla ricerca di armi e munizione materiale illecitamente detenuto, hanno rinvenuto nel centro di Arzana un bunker occultato in un edificio in costruzione. I militari hanno proceduto alla perquisizione della struttura e hanno notato una porta situata dietro un muro di blocchetti, dalla quale si accedeva ad una parte abbandonata dallo stabile. A quel punto i carabinieri hanno intensificato le ricerche, trovando in una stanza apposta alla fine di un corridoio una bottola ricavata al di sotto alla pavimentazione, attraverso la quale si poteva accedere ad un piccolo vano appositamente ricavato e idoneo a ospitare una persona. I militari hanno accertato che il locale era dotato di un condotto di aerazione per consentire il riciclo dell'aria. Inoltre nei pressi della bottola sono state trovate due stampelle. I carabinieri nel corso dell'operazione hanno rinvenuto anche proiettili di pistola e due manufatti in pietra, un busto e un'altra un contenitore di possibile interesse archeologico. Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà sottoposto ad esami al fine di trovare impronte digitali o tracce di DNA da confrontare con le banche dati. Proseguono le indagini dei carabinieri per capire se il bunker abbia ospitato qualche latitante.